salve a tutti stramodio benvenuti in questo nuovo video io sono sempre se questo noi ci siamo tornati con nella terza parte dell'episodio 11 di eldaria a new era io davvero non vedo l'ora di cominciarlo è una bomba questo episodio mi riempie davvero tanto il cuore perché è davvero strano vedere le cose di eldaria nella vita normale nostra e niente vi ricordo di seguirmi su facebook e instagram per rimanere sempre aggiornati i link sono in descrizione in ogni caso c'è scritto qui e di guardare sempre i women monthly favorites perché davvero non è che io ci devo scrivere giovanna tutta panna per farvi vedere per farvi cliccare sul video perché do news importanti comunque e poi niente mettete la doppia velocità se pensate che la mia voce sia troppo lenta per me è più godibile riprendiamo l'episodio ok non lo so non so esattamente come funzionano gli incubatori non vuoi assolutamente pensarci compagni che si schiuderebbero perennemente destinati a morire di fame pensavo a becero che mi aspettava il quartier generale spero che non gli sia successo loro niente gli amano li sta guardando non c'è motivo che comincia ad avere un po di nausea io posso continuare la tua ricerca neanche lui si sente bene devo pensare a shaitan si allontano incerto forse rinunceranno a sintetizzare il cibo per loro preferirei davvero che non ne parlassimo se non ti dispiace sì sì scusa ecco cos'è questo le sparizioni spiegabili continuano a mettere nel panico la comunità internazionale il mio cuore ha perso un battito cliccato sul titolo dell'articolo non mi sono ripresa dallo shock per la scomparsa della melton tower quello deve essere il grattacielo che abbiamo esplorato a gengaku i miei occhi continuavano a scansionare le linee quasi automaticamente le parole si sono impresse nella mia mente prima che ne comprenda appena il significato aiuto ho scomparso anche allo stadio della periferia di londra capitale di tutto il mondo in allerta sicurezza rafforzata in tutto il mondo colpiti anche piccoli centri paesini popolazioni terrorizzate tutte le ipotesi considerate in una riunione urgente dell'onu l'ha comunicato la propria portavoce manuela antica anita rosso comunicato stampa tutte le possibilità sono allo studio non abbiamo escluso la possibilità del terrorismo alcuni parlano di extraterrestri altri pensano che sia una punizione divina avevano ragione i profeti sulla fine del mondo mi sono rivolta a metto sembrava spaventato quanto me come abbiamo potuto prendere perderci qualcosa del genere i nostri due mondi si stanno fondendo cose della terra stanno arrivando del dario al contrario cosa sta succedendo come è possibile non lo so dobbiamo chiedere dobbiamo chiedere non so sento che la fredda morsa della paura mi afferra ancora una volta ho la gola secca e non riesco a ingoiare la saliva se il dario arriva sulla terra o il contrario cosa accadrà e andaria come fa putin sono riuscita a capire che c'erano diversi mondi ma sono ben separati molto diversi come reagiranno gli umani alla scoperta dell'esistenza delle fate molto molto male come reagiranno quando scopriranno dell'esistenza dei vampiri molto molto male e i draghi e gli orchi saranno terrorizzati ecco nevra potrebbe andare a chiedere consiglio e trovarsi per ora in in sintono con gli altri basta che va fuori città e c'è il maniero creature che hanno sempre infestato le loro leggende che sono menzionati solo per spaventare i bambini si sentiranno minacciati invasi indifesi vorranno difendersi ho difficoltà a respirare uli vertigini metto mi posò la mano sul braccio sei qui sei nel panico mi guardo negli occhi fessandomi con calma calma ti ascolta la mia voce sei al sicuro sbatte le palpebre a una velocità normale la sua voce era leggermente più profonda del solito non c'è niente di cui preoccuparsi non ti può succedere niente vorrei rispondergli ma la voce mi sta soffocando in gola va tutto bene non siamo in pericolo immediato hai paura ed è normale provare a respirare lentamente concentrati sulle cose concrete ispira profondamente non posso il mio respiro è bloccato è perfettamente normale non ti succederà niente lasciati prendere il controllo trattieni il fiato non rimarrai senza aria e per riprendere il controllo espira lentamente quando ti senti fiattuaggio ricomincia da capo cerco di fare quello che mi sta dicendo mi sento come se stessi improvvisando come se avesse il singhiozzo in ala prova a pensare a qualcosa di piacevole qualcosa di piacevole la cucina di caruto l'allenamento con gli amon la sensazione del lucidetto nella mia mano il bacio che ho condiviso con neve qualche ora fa ecco pensa alle cose serie no l'allenamento di amon vabbè espira senti il terreno sotto i tuoi piedi la sedia contro la tua schiena prova a respirare profondamente va tutto bene mi concentro sui suoi occhi riesca a respirare un po meglio mi chiedo se nevra può sentirci probabilmente ma non l'ho sentito avvicinarsi a noi deve pensare che io sia in buone mani sento che la mia frequenza cardiaca è tornata alla normalità mi sono riccata le labbra e ho ingoiato io grazie a me io penso di sentirmi meglio non non parlarne è normale avere paura io anche io ho paura ma ce la facciamo ce la abbiamo superato le cose ma questa volta non riesco a trovare le parole mi sento è più grande di qualsiasi cosa abbiamo già affrontato è come è possibile qualcosa di così grande un fenomeno planetario diverso da qualsiasi cosa i nostri mondi abbiano mai conosciuto sento la paura del profondo di me lasciare il posto alla rabbia una rabbia che può essere concentrata sul bersaglio sbagliato una rabbia che potrebbe non essere giustificata e perché questo articolo non è in cima alla pagina delle notizie forse la gente crede che sia una bufala o dai qualcosa del genere questo è tutto ciò di cui le persone dovrebbero parlare giusto o un'operazione di comunicazione su larga scala non sono tutto quello che sappiamo non si rendono conto esattamente potrebbe essere il momento di rendersi conto un fenomeno senza precedenti nella storia dell'umanità forse potrebbe rendersene conto non credi no gioia perché è come se uno arrivasse e fa i rettiliani i rettiliani certo ma diciamo stai facendo troppo rumore siamo in una biblioteca ho fatto uno sforzo considerevole per calmarmi un po non lo so forse stanno negando anche se fosse vero soldari abbiamo solo sentito parlare della torre non si parlava di stadio altro come potremmo averlo perso e la guardia non lo so forse più grande di quanto pensi dopo tutto ci devono essere altri continenti al nord di genkaku forse la guardia stessa non conosce l'intera superficie di al daria visto che vivono un po come noi nel medioevo potrebbero benissimo conoscere solo una piccolissima parte si fermò fissando il vuoto pensieroto metto terra metto cosa stai pensando pensi che il daria sia rotonda non credo di averci mai pensato io credo di sì non credo sia possibile un mondo piatto ok ma non credevi nemmeno che i draghi fossero possibili o i vampiri non so cosa dirti metto non so cosa pensare guarda quando siamo nella terra di el fa freddo al nord è più caldo al sud come nell'emisfero settentrionale di un mondo sferico giusto sì come ma siccome tutto è più o meno magico aspetta è davvero importante in questo momento gli albariani potrebbero pensare che il loro mondo sia piatto se il daria rotonda dovremmo dirglielo non credi quindi almeno sanno che è possibile voglio dire ottimo ma penso che possa aspettare fino al nostro ritorno a casa sento che ci sono questioni più urgenti a portata di mano qui non credi sì sì certo ad ogni modo non dimenticarlo non lo farò racce di alto indirizzo mail ho fatto scorrere la tastiera verso il giovane hai ragione più velocemente partiamo prese la tastiera inizia a digitare riesce a vedere cosa stanno facendo gli altri a proposito niente affatto mi sono persino passata un po' di mente mi sono girata per vedere dove fossero stanno leggendo in silenzio di noi seduti in un angolo della stanza un osservatore distratto non potrebbe immaginare che si conoscano anche se si guardano un po più spesso di quanto dovrebbero e che guardano regolarmente in direzione della porta le altre due o tre persone qui non sembrano aver notato nulla ho strizzato gli occhi cercando di leggere il titolo del libro di nevra è un libro abbastanza sottile forse 50 150 pagine 200 pagine in copertina il nome molier è scritto da caratteri cubitali il titolo è più piccolo ci sono due parole certo perché dovrebbe avrebbe dovuto scegliere qualcos'altro don giovanni sul porto e si è ventoso di esso potrebbe essere un po deluso dal finale ho sorriso tra me e me mentre mi trovo mi voltavo verso metto va bene ho la foto vediamo cosa succede metto aperto un motore di ricerca di immagini inverse speriamo di trovare qualcosa prima che faccia buio iniziata la ricerca di i risultati sono apparsi immediatamente circa 249 risultati in 0,74 secondi mi aspettavo di peggio va bene beh immagino che dobbiamo iniziare a cercare quindi ecco qui lo stemma di una nobile famiglia breton e scrivono non si sa mai forse sono i loro discendenti o rendi conto che scriveremo un sacco di cose se partiamo da quelli dalla quell'angolazione lo so ma non possiamo ignorare una possibile pista metto e miso un profondo sospiro di scoraggiamento ok hai della carta una matita no non ho portato niente con me io siete in una cazzo di biblioteca forse wanchoo ci ha pensato vai a chiedere io continuo a cercare mi sono alzato e sono andata verso wanchoo al solo sguardo verso di me sembra triste wanchoo qualcosa non va che cosa c'è ho seguito il consiglio di me ti sapevo che non avrei dovuto ho dato un'occhiata al libro che ho in mano i miserabili è privi del libro prendino un altro se non ti piace non ti piace stai scherzando è magnifico non l'hai letto no in realtà so solo che è un po datato smettila mi darei fastidio c'è questo tizio il vescomo mirel beh non ho idea di cosa sia un vescomo ma a quanto pare un loro molto importante sarebbe nella guardia della luce nel daria capisci si vedo allora questo vescomo vive in una specie di palazzo e accanto c'è un ospedale non so perché ma è proprio così quindi va in ospedale solo per tenersi aggiornato ci sono 26 malatili tutti rannicchiati insieme lo trova folle quindi li lascia entrare nel suo palazzo non ho letto buoncio cosa ha fatto ecco è scritto qui il giorno dopo i 26 poveri pazienti furono sistemati nel palazzo vescovile il vescovo era in ospedale è inteso vero bene può sembrare la cosa normale da fare ma è pur sempre un sacrificio inoltre si dice in seguito che il vescovo mirel è morto è molto povero per ragioni che non ho capito ma il messaggio resta è toccante la guardia è stata fondata su cose del genere donna a chi non ha niente combatti la tirannia ma l'ingiustizia pensavo che la guardia fosse stata fondata per mantenere l'ordine no non si tratta di ordine si tratta di libertà non si tratta di dire alle persone cosa devono fare si tratta di creare le condizioni in modo che possono fare ciò che vogliono va bene va bene non ti arrabbiare è solo qualcosa che ho detto hai per caso portato qualcosa con cui prendere appunti sì naturalmente non a casa infatti l'ho fatta apposta la giovane donna l'ho visto per un momento nella sua borsa tiro fuori pezzi di carta e un pezzo di carbone ecco questo dovrebbe fare il trucco sentiti libera di usarli tutti pensavo di scrivere informazioni su questo mondo ma ho capito che sai tutto quello che c'è da sapere grazie woncio ti lascio alla tua lettura mi sono unita a mettio davanti al computer avevo aperto diverse schede così hai trovato qualcosa interessante interessante non lo so ma ho trovato delle cose quindi c'è questa storia del nobile bretone secondo me non ha nulla a che fare con questo ma scrivelo se vuoi il loro nome è de kermoy san per quanto pare loro portano ancora lo stemma ho scritto il nome con un segno meno è improbabile che sia correlato comunque questo una specie di mazza da caccia si chiamano i figli di artemide non stanno bene il loro luogo assomiglia un po quello che abbiamo noi non è proprio lo stesso ma forse il loro sito non è aggiornato oppure le loro giacche da caccia sono vecchie e visto che tutti sembrano pazzi per le specie esotiche ad essere assolutamente franco non sarei sorpreso se organizzassero delle caccia all'uomo i loro ultimi articoli condividono notizie sui famigli credimi non vuoi leggere commenti mi fido di te cos'altro c'è quest'altro club penso che siano rivali del primo si chiamano i figli di diana cacciatrice l'ho guardato con cautela in cosa ci siamo cacciati lo so lo so questo non ci porta da nessuna parte comincio ad obbitare forse ci dovremmo lavorare pensi che sia possibile che ci sbagliamo ci siamo appena imbattuti in cacciatori perduti voglio dire sapevamo delle fate dei poteri ma potrebbe comunque essere una coincidenza una di loro potrebbe essersi persa come noi potrebbe aver visto cose fate non so e avrebbe potuto trovare una via la via del ritorno forse per caso avrei potuto dirlo ai suoi amici e loro sarebbero potuti venire ti sembra plausibile o anche possibile non lo so è solo che non lo so più tutto mi sembra possibile a questo punto mi sono presa la testa fra le mani francamente non so più cosa pensare mi sono presa la testa tra le mani ok la luce dello schermo mi fa male agli occhi va bene trovato qualcos'altro ho trovato una forza armata che usa il simbolo abbastanza simile mi sono seduta forse un buon vantaggio ma è una divisione dell'esercito stanero i cacciatori che ha incontrato parlavano la nostra lingua non so esattamente come funzionano le lingue soldaria forse tutti si capiscono per magia lo scrivo per ogni evidenza mattio mi ha aperto la pagina e copiato il nome della divisione questo è tutto devo ecco dove ero quando sei tornata con il giornale abbiamo solo 238 risultati da controllare se quello che stiamo cercando non è uno di questi hai un piano b nessuno che abbia bisogno del computer della libreria multimediale comunque io la mia volta ho tirato un sospiro di scoraggiamento ho pensato che sarebbe stato facile il problema è che le organizzazioni segrete non hanno una pagina su wikipedia altrimenti sarebbero organizzazioni organizzazioni normali ho sorriso senza troppa convinzione mi sento stanca pensavo che potessimo trovare tutto su internet e che avrebbe potuto solo migliorare in sette anni se non vuoi esistere online non andare online sì certo allora perché creare un logo in modo che i membri si riconoscano assenza va bene diamo un'occhiata al prossimo risultato con un po di fortuna avremmo avranno commesso un errore uno dei loro membri potrebbe aver pubblicato foto su un social network metti ho fatto click sul risultato successivo era una pubblicità di un gioco online gioca come il più grande cacciatore della terra ora sembra bello ma non abbiamo davvero tempo ci sono un sacco di cose come questa ci siamo lamentati all'unisono questo è orribile questa ricerca sarà spaventosamente lunga e l'estate minuti si sono trasformati in ore con ci stava finendo i miserabili prima che abbiamo trovato nulla di interessante quello che ho pensato i risultati stavano diventando sempre più simili avanti e più vaghi sempre meno importanti per la nostra attenzione e come il tempo è passato le nostre speranze se ne sono andate perso un po di coraggio volta un titolo catturava la nostra attenzione occhiata una parola di incoraggiamento dicevamo che questa sarebbe stata la volta buona che questa qui sarebbe stata l'organizzazione che stavamo cercando e ogni volta avevamo ci sbagliavamo e il nostro delusione andava sempre più a peggiorare poco le ricerche sono diventate meccaniche metto cliccavo leggevo il titolo e si scuoteva le spalle e ritornavo nella pagina prima e ripartivamo di nuovo abbiamo visto un'altra cinquantina sessanta di risultati e poi un'altra cinquantina sessantina quando siamo arrivati alla fine che cosa avevamo fatto cosa avremmo potuto fare cosa avremmo dovuto dire agli altri che non avevamo non eravamo arrivati a nulla non volevo avere questa conversazione con buon chu la fenguan aveva rischiato la sua vita per portarci qui forse per niente probabilmente per niente un altro 150 risultati forse uno di loro poteva essere quello giusto noi continuiamo a guardare e non eravamo davvero sicuri se stavamo guardando lo lo stack giusto insomma iniziamo piano piano a non sapere più che cosa stavamo facendo stessimo facendo avremmo dovuto arrenderci mi sentivo un po apatica a lasciare la battaglia aspettare e vedere non ho capito aspettare fino a che il mondo non ci avrebbe dato un avvertimento il tempo pianificare per il futuro cioè limitare il danno e pianificare per il futuro non ho capito e per ora cercare di prevenire l'inevitabile mi sentivo esausta non solo fisicamente mi sentivo abbandonata dalla dal combattimento ancora un altro 150 risultati cose varie non saremmo mai arrivati alla fine di sto coso ho finalmente finito spero che non ce ne siano più metti apri un'altra pagina sullo schermo apparve una sola frase il giovane scosse la testa colta alla sprovvista bisogna immaginare si si fo felice ok cosa a che fare con non ho potuto far meno di ridere nervosamente dimenticalo l'universo ci sta prendendo in giro che cosa vuoi dire l'universo e lascia perdere ho detto non troveremo mai quello che stiamo cercando sono sull'orlo di una divisata devono essere i miei nervi se le mie informazioni sono corrette deve essere segui il mio desiderio di ridere è morto soffocato da qualche parte nella mia gola la voce profonda il tono è gelido improvvisamente freddo mi sono girata lentamente chi minchia è questo un omone torreggiava su di me con un vestito con un abito nero non deve essere alto meno di due metri una voce della mia infanzia che giova nella mia testa hai mai ucciso qualcuno sembra cover bubbles metti in palidi mi alzai devo inclinare la testa all'indietro per guardare i suoi occhiali scuri ho una buona idea di chi sia quest'uomo immagino tu sia qui per conto di mio padre ma tu sei ma tu sei cretina ma tu gli dici una cosa del genere uno che ti va scusa ma ma sei giovanna ma uno che si presenta così e ti fa scusa ma ti chiami giovanna e tu gli dici sei qui per conto di mio padre non gli dici tipo no guardandolo malissimo e continuandoci a cercare porno al computer probabilmente c'è davvero questa è la prima cosa che hai da dire complimenti alla descrizione vabbè non è risposta alla mia domanda infatti non è solo alto ha le spalle estremamente larghe ho dovuto piegarmi di lato per guardare dietro di lui nevra sta parlando con cinque cloni cobra tutti enormi tutti costituiti come armadi antichi tutti in giacca e cravatta e ora sto prestando attenzione indossano tutti un aricolare deve cercare di parlare di dolcemente a meno che non li stia minacciando quel sorriso può benissimo essere usato per entrambi gli altri non si sono mossi stanno ancora fingendo di leggere nevra deve aver superato gli scagnarsi quando sono entrati gli altri mantengono le mente sorprese se qualcosa dove stanno restorto lo sguardo di mancio è fermo postato sul suo libro la sua mano è scomparsa nella borsa non sta più leggendo quale borsa aspettate scusatemi sta aspettando congelata pronta come una primavera le sue dita devono essere a volte attorno a un fumogeno su qualcosa di esplosivo neanche io vedo le mani lienze sono sotto il tavolo a cui seduto penso di vedere un bagliore bluastro e danzare lì anche lui è pronto ad attaccare al minimo segno di nevra leftan è nascosto tra i due scaffali non devono averlo visto non devono averlo visto l'aria sembrava vibrare intorno a lui e danzarsi ma scusa come fanno se non c'è il mana vabbè sembra più spesso ma anche più sicuro ho ripreso la mia posizione originale di fronte a cobra qui non può scoppiare una rissa non voglio fare del male a sono né civili né innocenti né tira piedi di mio padre scusa qual era la tua domanda di nuovo mi sono estratta del fatto che siete in sé in particolare e che non sembri venuto qui per leggere cobra non sembra affatto uno a cui piace scherzare non sono qui per scherzare quello che pensavo scusa devo aver interpretato male le tue intenzioni penso che la rabbia mi stia dando le ali può anche essere la certezza che abbiamo il sopravvento in ogni caso in caso di confronto o il fatto che cobra non sappia che ho i superpoteri o il fatto che tu non sai di dove viene cobra scusami probabilmente una combinazione di tutto ciò in ogni caso voglia di comportarmi con non scalanze allora scusa che stai dicendo qualcuno di nome segui ho buone ragioni per credere di averli trovati se non altro perché hai suggerito che sono stato mandato da tuo padre questo è il caso giusto il padre di segui che ti ha mandato ma ha degli occhi ridicolissimi sotto prima prima non si era visto con gli occhi aiuto ma perché non ha le sopracciglia scusatemi mettimi sei una specie di digiamito soffocato non credo che approvi il mio atteggiamento sono troppo arrabbiata con mio padre per preoccuparmene aspetta solo così le cose sono chiare non ho voglia di giocare sto lavorando qui questo non mi diverte più di te certo mi capita che io sia impegnata da parte mia quindi vedi siamo in una sorta di impasse non ho capito il gigante si spiorò la tempia con due dita penso di dargli sui nervi probabilmente non è importante ma solo entusiasta signorina vieni con noi tuo padre ti sta aspettando non stai più facendo domande stai dando ordini preferisco parlare di istruzioni mi rendo conto che è un eufemismo posso sapere perché mio padre non ha in ritenuzione necessaria a venire a cui lui stesso puoi chiederglielo in pochi minuti se vuoi essere così gentile ad asseguire le mie istruzioni immagino che faccia parte del suo stile dietro cobe lo sguardo di guanchù ha incontrato il mio non voglio arrendermi così facilmente e se rifiuto per ipotesi metti mi afferrato la giacca per farmi capire che dovevo che dovevo fermarmi l'ho ignorato sto ribollendo di rabbia e da qualche parte penso di amarlo te l'ho detto sto lavorando è il mio lavoro in questo caso e portarti da tuo padre se rifiuti e credi che me ne pentirei dovrei prenderti con la forza con l'aiuto dei miei cinque colleghi di cui è notato la presenza facciamo questa anche se è stranissima e terribile ma penso che mi piaccia in ogni caso apprezzo questo scambio o ne trago piacere e se opponiamo una feroce resistenza chi siamo noi tu e quei due deboli ho segnato ha disegnato metto e nevra non li chiamerei deboli certo rispetto a lui sembrano gracili ma non si rende conto di chi ha di con chi ha che fare come speravo non conto gli altri si esatto noi tre se resistiamo il gigante miso un sospiro più profondo di qualsiasi altro io abbia mai sentito le sue labbra la sua gabbia toracica straordinariamente grande però per favore non resistere non ho alcun desiderio di colpire gli adolescenti davvero per favore seguici senza fare storie ti porteremo a casa di tuo padre e nient'altro possiamo lasciarci come buoni amici e riprendere il corso della nostra vita lasciarci come buoni amici un po troppo presto un po troppo presto me lo sono inventata è un iperbole è una frase di uso comune per favore lasciamo perdere vieni con noi ho valutato rapidamente le mie opzioni se rifiuto cercare di usare la forza se cerca di usare la forza dovremmo difenderci se ci difendiamo sarà sicuramente un massacro sei uomini di queste dimensioni trovati privi di sensi in una biblioteca per non parlare del rischio di ostioni morsi e così via e dovremo partire il prima possibile mentre siamo lontani dall'aver terminato la nostra ricerca ha detto di tutti questa sembra una soluzione sbagliata ho accetto e dovevo parlare con mio padre ho già parlato con lui molte volte prima non è un grosso problema ma questo ci riporterà la nostra missione sarà ma molto probabilmente passeremo molto più inosservati non credo di avere scelta va bene vengo con te grazie per avermi dato il tempo di pensarci prego ero sicuro che saresti è stata ragionevole comunque se vuoi essere così gentile vorrei spiegare la situazione ai miei amici per favore farlo ai sei minuti perché sei scusami vabbè ho fatto un segno ai suoi colleghi che l'hanno raggiunto davanti la porta ho fatto un segno ai miei compagni che si sono uniti a me al computer cobra pensava che sembrava sorpreso che tutti nella stanza si alzassero subito quindi non sapeva davvero che leftan e lens e one two erano con noi la mia ipotesi di una feroce resistenza assume un significato tutto nuovo alla luce di queste informazioni se qui cosa sta succedendo chi è questa gente sono rifiutati di rispondere a nessuna delle mie domande era pronto ad attaccarli avrei potuto posso ancora in realtà dire solo la parola grazie one two non sarà necessario migliore verso un euro avevi ragione ignacio disse mio padre che era tornato ha mandato i suoi uomini a cercarmi tuo padre ha scagnozzi che lavorano per lui è importante e influente a soldi soprattutto a soldi quegli uomini devono solo pagarli in realtà con quello che ho rubato prima potremmo permettercelo forse non per molto detto questo comunque non è questo il problema il problema è che mi hanno trovata tutti rimasso in silenzio che cosa significa per noi devo seguirle non ho scelta potremmo combattere ce ne sono solo sei attireremo troppa attenzione su noi stessi abbiamo ancora cento ventuno risultati da esaminare è meglio che rimanga qui continua a cercare non si sa mai da parte mia andrò a trovare mio padre non so proprio cosa gli dirò ma non è questo il problema questo è il mio problema cercherò di non tirare fuori le cose possiamo incontrarci qui davanti all'edificio al calare della notte con un po di fortuna a quel punto avrei trovato qualcosa non ci resta che tornare nella foresta e passare attraverso il portale nessuno di loro sembrava essere convinto ho l'impressione che voi non crediate davvero al mio piano beh sembra stranamente pericoloso voglio dire se posso parlare per tutti e gli altri annuirono tutti d'accordo lasciandoti andare da sola con quei con quei sei ragazzi spero che tu possa capire perché non ci sembra una grande idea non corro alcun rischio mio padre non mi ucciderà e nemmeno mi attaccherà cosa ti fa pensare che non proverà a tenerti lì beh il fatto che sia mio padre ancora una volta a rigor di termine non è tuo padre non dal suo punto di vista comunque sì questo è il mio punto si ricorda di me è l'unico che si ricorda di me il che è molto strano tra l'altro bene lo chiarirò parlando con lui non posso credere che sto cercando di convincerli quando non voglio nemmeno andarci ad ogni modo diciamo che vuole imprigionarmi o qualsiasi altra cosa non siete i miei poteri questo è ciò che ha detto Wanshu potremmo battere i suoi scagnozzi in questo caso non ci farebbe bene ma potremmo potrei scappare senza problemi se lui volesse trattenermi te lo giuro sono convinta che non ci siano rischi ci sarebbero ancora meno rischi se non andassi per lei sì ma non per la nostra missione e a sua volta per l'intera esistenza di Eldaria al contrario i rischi aumenterebbero perché la nostra missione è quella di so qua della nostra missione grazie preferisco ricontestualizzare in modo da avere tutti i problemi in mente li abbiamo in mente Matthew forse uno di noi può venire con te ad ogni modo qui saremo inutili non sarà inutile se vengono altre persone se provano a darci problemi nevra o lens possono essere sufficienti per respingere un battaglione di uomini armati qualcuno dovrebbe riaccompagnarti a casa di tuo padre deve essere possibile negoziare questa condizione giusto non voglio giocare di nuovo a fare questa festa ma quei ragazzi non sembrano disposti a negoziare nulla in ogni caso non è quello il problema andrò da sole è mio padre è un problema mio non ho bisogno che nessuno parli con mio padre e non sono in che stato mi metterà ok rivedere mio padre dopo tutto questo tempo con il rapporto che abbiamo che abbiamo avuto o qualunque cosa si ricordi di quella relazione non è di come potrei reagire davanti a lui e non voglio che nessuno lo scopra contemporaneamente a me questa è la tua decisione andai da sola se è quello che vuoi lefta non si accigliò posso dire che ha paura per me lo guarda ai nostri occhi si incontrarono sono assolutamente convinta che starò bene con i miei poteri in questo modo sono invincibile so che ha sentito il potere della mia determinazione beh non so se è un buon piano ma è tutto quello che abbiamo cobra si avvicinò al nostro piccolo gruppo signorina segui temo che i suoi semi minuti siano scaduti sei un po troppo concentrato sul protocollo vero il sopracciglio sinistro di cobra si alzò sopra il suo occhio non siamo sopracciglio ripetiamolo ma più lentamente e non siamo stati presenti a meno che non mi sbagli non ci siamo presentati l'un l'altro e direi che rimarrà così il suo sopracciglio ha battuto il record mondiale per aver alzato un sopracciglio ok come desidera signorina come desidera per te signorina helen helen perché fai di tutto per infastidire il signore avevo completamente dimenticato i nostri nomi in codice finora non ne avevamo davvero bisogno in ogni caso ricordo metto forse perché è stata una sua idea cerchiamo di mantenere la calma ok sono molto cool ma non mi piace essere chiamata miss complimenti per favore scusami non volevo turbarti deve essere lo scagnozzo più strano che abbia mai incontrato neanche io ho incontrato molti scagnozzi il suo aspetto contrasta nettamente con il modo in cui si esprime sa qui se non ti ti piace seguimi in un certo senso è decisamente ghiacciante sapendo che questa cortesia esagerata nasconde un incredibile potenziale di violenza ho ripresso un brivido mentre mi preparavo a seguirlo nevere io ci siamo guardati sembrava preoccupato qui gli sorrido non sono sicura che sia stata abbastanza per rassicurarlo mi sono diretta verso l'uscita dopo il cobra ci è voluto solo un secondo prima che qualcuno mi afferrasse il braccio mi voltai sorpreso in nevra mi guardo con tenerezza prima che capissi cosa stava succedendo mi sono resa conto che mi stava baciando in un momento dopo che le nostre labbra si sono incontrate what the il suo bacio è focosa appassionato e amaro come un bacio da dio gli ho ricambiato il bacio sperando che non fosse l'ultimo ho chiuso gli occhi per lasciarmi andare dopo un breve momento gli poso la mano sulla guancia l'ho spinto via più gentilmente che potevo nevra torno tornerò stasera forse e se non è il caso vengo a prenderti mi sono presa il tempo di guardarla ancora un attimo improvvisamente mi sono resa conto che gli altri ci stavano guardando oh giusto non lo sapevate loro fondamentalmente sono più o meno beh insieme lo sapevo sono stata la prima a saperlo guarda davanti su grazie non credo sia un buon momento per vantarsi di averci spiati ad ogni modo se avete domande potete verificare con le parti interessate apparentemente cobra si schierì la gola mentre ci mi fissava io vorrei posare l'attenzione sullo sguardo che va a lifetime poco fa perché ha qualcosa di stupendo va bene sto arrivando scusa dove stavo salutando beh hai capito fatti strada con il cuore pesante ho seguito i sei uomini attraverso la mediateca sono uscita dietro di loro una berlina nera stava aspettando vicino al marciopiede le finestre erano oscurate posso solo vedere il mio riflesso il momento non è peggiore di un altro per essere intelligente temo che tutti a sette non andremo bene molto spiritosa signorina prenderemo un altro veicolo mi ha aperto la portiera posteriore della macchina posso solo consigliare di tentare la fuga l'autista non è amichevole con i fuggitivi immagino sia un altro eufemismo questo caso è un eufemismo o le porte posteriori non si aprono dall'interno ho accettato di incontrare mio padre non ho intenzione di saltare per strada sono salita in macchina la porta si è rinchiusa dietro di me era buio dentro le finestre erano opache sono stata separata dall'autista da un pannello di vetro fumé non riesco a vederli non riesco a comunicare con loro questa volta non c'è modo di fare marcia indietro non c'è modo di negoziare cosa dirò a mio padre? non ci vediamo da due anni per me otto anni per lui ho la memoria che mi ha mi sta dando il mal di testa non ha senso comunque prima che scomparissi quanto tempo era passato da quando ci parlavamo? scossi la testa non otto anni in ogni caso come spiegherò questi otto anni di assenza? in realtà anch'io ho alcune domande da fargli perché si ricorda di me? si ricorda davvero di me? gli altri troveranno le informazioni per cui siamo venuti? o abbiamo fatto tutto per niente? le domande mi frullano per la testa devo calmarmi vedrò quando arriviamo troverò qualcosa da dirgli anche se devo mentire non posso parlargli di Eldaria il motore si è avviato e l'auto è partita sento che questo viaggio durerà un'eternità devo pensare ad altro ma cosa dirò a mio padre? come finirò? perché siamo scemi cosa? ok ma ma allora intanto mi ha turbato che non si è vista l'illustrazione perché io almeno un'illustrazione l'ho ottenuta e quindi ora la vediamo perché insomma non scherziamo non scherziamo eh infatti c'è l'illustrazione per fortuna che ogni volta si mette così piccola non lo so perché ok questa è l'illustrazione si vede anche il computer che stranamente era una tubo catodico magari un pochino più grande era una tubo catodico prima e ora sono più grandi non lo so perché c'è un portatile e non so perché metto a una tazza di Starbucks ma ok e niente la guardia in questa illustrazione è bellissima mi piace un sacco però insomma wow è stato davvero un bellissimo episodio io sono curiosissima di come continuerà e sono comunque felice che ci sarà un altro episodio sulla terra che non chiudano così velocemente anche perché appunto se non so se lo sapete Eldaria avrà 20 episodi a questa stagione e forse probabilmente poi finisce quindi come ha detto una tizia nel gruppo di Whatsapp di Eldaria qua siamo all'undicesimo episodio ancora non si vede cuccare quindi questo è un problema è un grandissimo problema però insomma vediamo ok e questa qua invece è l'illustrazione che c'era prima con Lifton e con Lance che anche questa è comunque molto carina cioè mi piacciono tantissimo entrambi però ovviamente preferisco l'altra cioè ovvio rimettiamola anzi e niente io direi che ho registrato anche abbastanza perché ogni ognuno di questi episodi mi porta via due ore e mezza probabilmente per la registrazione e niente se il video vi è piaciuto mettete mi piace commentate condividete passate dal canale vedete tutte le altre cose e iscrivetevi al canale ciao a tutti